Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni del valore di oltre 1.200.000 euro emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torrenunziata nei confronti di una società di Sant'Antonio Abate operante nel settore della raccolta dei rifiuti. A carico della società e del suo rappresentante legale sono stati sequestrati 368.000 euro di somme liquide giacenti su diversi conti correnti e tre immobili di cui due box e un appartamento per il valore stimato di 151.200 euro per complessivi 519.000 euro. Il provvedimento ablativo è il portato degli accertamenti di natura economico finanziaria svolti dalla Compagnia di Castellammare di Stabbia su delega della Procura della Repubblica di Torrenunziata, avviati a seguito di un'attività ispettiva di carattere fiscale che ha permesso di accertare che le società destinataria del sequestro ha omesso il versamento di ritenute nei confronti dei propri dipendenti per lo stesso importo. La condotta illecita, oltre all'indebito di sparmio d'imposta, ha consentito alla società di collocarsi sul mercato in una posizione di assoluto rilievo e di privilegio nello specifico settore commerciale, provocando effetti distorsivi sulla concorrenza, particolarmente dannosi nell'attuale periodo di crisi economica.